Il bollo ma la bolla, il passerò la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha Tutti quanti amano Mike Shosha Ok ragazzi siamo passati a qualcosa che Ambra, ahia, conosce meglio perché ha detto no prima non va bene Allora adesso gioveremo a WWE che Ambra conosce già da tempi antichi Sì però questa è la prima volta che... Ecco, subito le mani avanti Subito le mani avanti Ah è il gioco nuovo Madonna Dai sciamo personaggi zitto Allora ragazzi dovete sapere una cosa che forse non tutti sapranno Ma Ambra è una grande fan di wrestling Soprattutto ha un antico amore, un amore che nasce dal tour della WWE di due anni fa pensate un po' Vuoi dire che è il tuo grande amore? No non è il mio grande amore Ambra è innamorata in maniera segreta di CM Punk ragazzi Veramente lo seguiva sul Twitter Lo seguo ancora sul Twitter Dai scegli il personaggio intanto Ma perché è simpatico Sì è simpatico ragazzi Eccolo Ecco Ambra Però Ambra è anche una grandissima fan di John Cena No non è vero Sì è vero No No Gerico Sì sì Gerico è il top È il top Mamma mia Senti Mamma mia ragazzi le bugie Aspetta aspetta devo raccontare una cosa Infatti non sono io che ieri mentre camminavamo per Roma Che mi hai detto Che ti ho detto Mi hai detto You can see me Vabbè ma che per dire quello lo faccio sempre Appunto quindi sei tu un fan del John Cena Dai prendi il John Cena Dai io prendo chi voglio io vai No John Cena te sfondo C'è proprio che Perché quanto ha John Cena E' più forte di tutti Ah mi è John Cena E' super eroe C'è un po' verde Già un po' verde Ah ragazzi dicevo come ho scoperto questo Un po' amore segreto che ambra non mi ha mai detto Che insomma stiamo tornando dallo show comunque c'eravamo divertiti tutto apposto Tra l'altro abbiamo visto Chris Giorgio contro siampunk In un stai fai di match Bellissimo Aspetta aspetta Eh non si aspetta Qua si gioca Eh non so come in famotto Non so come in famotto Non so come in famotto Insomma ragazzi Io gli dico Chissà quanto è alto siampunk E lei 1,87 1,85 No 1,89 C'è vede Non me lo ricordo più Eh non si ricordo più Cioè se l'è andato proprio a spizzare A spulciare Mamma mia mamma mia Però è anche una fan di John Cena Perché tanto è vero che durante il match c'eravamo due bambini davanti no? Non è vero Quando è entrata John Cena che aveva i cartelli per John Cena E lei oh le fate sti cartelli io voglio vedere John Cena Ma non è vero Amore mi Si si Let's go Lei faceva let's go si Ma si incazzava Ma no Che si fa per rientrare Ma che si fa? Come fa c'è rientra dentro? Che si fa? Non lo so Che si fa le spaccate Come si rientra dentro? Ah non sa mai Come è? Sono giocato Guarda che infamore Si Ho scelerato Ti ricordi come si prendono gli oggetti? No L1? Si Ok Ti do il privilegio di prendere una sedia Poi perchè lo butto? Se l'ho preso Dai prendi la sedia Dai prendi la sedia Dai Mamma mia vai 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 So io si Te ne si accorta no Sono in 3 Io l'arbitro e Vai 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 Mi stai prendendo le botte? Eh perchè Dai 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 Prendi sta sedia su dai Ma me l'ha buttato giù questo Dai mi sta sedia Dai tira me la sua Aspetta che la venga a prende Il quadrato per venare Senti lo vince le speracole Che stuo Che stuo sono una grandissima ci so giocare no aspetta aspetta scusa io mi aspettavo che era il match quello che tu mi prendi di tutto hai scelto tu l'hai scelto tu l'hai scelto tu si è un fame attenzione ragazzi guarda come vince contro la ragazza avevi paura che vincevo pippa bu pippa ti devo la rivincita dai anzi capo di cambio personaggio forse si impancano abbastanza parte per te c'è bisogno dal coca ma che ne so che vuoi prendere oh mi aspetta però che mi sono una tromba ma sta pippa va vince stai perdendo? no ma non mi ricordo i tatti stavolta non me le faccio di pasta i tatti eh ma vi sono sempre gli stessi sono quattro anni che sono sempre gli stessi ma non mi sembra cioè fame c'è ambra spinge solo i tasti a casa appunto non è che lei sa effettivamente quello che sta a fare no vieni vieni però me lo ricompi se me lo rompi eh infatti già te l'ho comprato questo è il mio te l'ho comprato uuuu attenzione ambra rossa ripartenza calci calci no che c'è che c'è l'ammaggio mi sta a fa un casino guarda come sta cioè sta spingendo i tasti no ve lo devo fare vedere così sta spingendo i tasti così guardate così bella così c'è ma a parte che tu guarda 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 pure io ti sei messo davanti allo schermo che fa me sta mossa oh ma te ne hai di coso sei lanciata alle cose guarda senti a quanto dura sta mossa finale scusa eh dai ma che cavolata si mette pure il guanto dai perchè a lui gli piace farlo proprio bene no aspetta 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 che aspetta che aspetta ma non lo sai fa non sai scegliere quali da gli schieramenti no perchè vinco solitamente quindi a me non mi schiena mai nessuno oh 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 al luco ho vinto io guarda guarda hai detto all'opportunità di fa triangolo appena te riprenderai aspetta un attimo eh da quando mi riprendi eh lasciamo da sola ah no non ce l'hai e allora che faccio un tra le mostri se non c'è triangolo scusa eh beh mi devi invenare ecco ecco cambia triadolo ma te lo faccio fare triangolo ma quando viene spingi da sotto quello che viene spingi cerchio non l'hai spinto cerchio ahi ma che è sta roba lo ho mai visto eh triangolo vai triangolo aspetta aspetta spinge a caso ah ok ok x vado uno scherzo dai cerchio grande ambro ma che cos'è sta cosa in non ti preoccupa, tu fallo e basta non hai affianza mi piace quello mino sotto mi mi stai rompendo il ciascino dai un attimo, non ce lo rompio madonna aspetta dai, aiuto il video perchè ti sotticchio io non puoi più essere preso te vergogni, te vergogni vieni qua, vieni qua ti piace questo? ti piace? questo? e questo? vai 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 mi stai pare proprio un match da due a due schienamenti praticamente ogni mossa tanto è tutto vinto ma non è vero il film quindi se vinci due perchè avevamo decine di tre si ma che stai a dire? come nel wrestling questo video se giuro l'ambra non è pro guarda io non l'ho mai detto eh ma tu se stai mangiando perchè hai rotto perchè hai rotto aspetta dai aspetta dai ma che stai a qua? ma dai qui ma tu puoi dimostrare davanti a tutti che sei così ehi! hai visto? t'ho fregato tieni tieni che è questa cosa con il ginocchietto ehi! sto dicendo il ginocchio ti sto dicendo vieni qui italiano dai stop te lo vuoi pure la mossa finale nooo dai no non me la rubi perchè se lo avessi scritto sembrava rubare no no dai mica dai su vabbè vabbè lo faccio lo faccio ma si lo faccio no dai non lo so fare ah lo dico il primo? fino al rosso il primo lascio il problema ok dai dai si è in pacchita riprenditi dai vena e che si è chiamato mi hai messo è romper il joystick quadrato 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 tondo tondo immagini verde io no ah ahahah ahahah dai madonna dai schiena schiena sta avicinando le cose la bc del wrestling proprio dai nooo dai 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 si è in pacchi dai si si né ci siamo dai 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 teniamo e cenizia mossa finale lo chiamo 4 piazza pubblica landing arries vieni premuto x dai che pippona non ti hai mai premuto x you can see me ahahah ti ho premuto x ahahah e ciò fa ragazzi si è ristabilito l'ordine naturale delle cose fermami ahah e ciò fa ragazzi si è ristabilito l'ordine naturale delle cose il pro ha dimostrato la sua realtà i wrestling si è mostrato sempre finto e già deciso in partenza perchè hai vinto tu l'avevamo già deciso mentre cambiamo il gioco vabbè ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto in realtà è stata una cosa tutta un po' improvvisata non ce ne fai a niente così ah anzi in realtà devo ancora perchè altro ragazzi dovrà passare sotto la censura di ambra quello che gli piace lo può mettere anzi se non gli piace allora censuriamo tutto vabbè ragazzi no lo metto che vinco che te li santino in realtà ragazzi ah bravo bravo eh si dirlo un saluto a tutti da maxxosha alla prossima ciao ragazzi un saluto a tutti ciao ragazzi da maxxosha dai dai saluta pure tu salva a tutti ragazzi ciao 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 a belli ciao ciao ma che schifo è ma che cosa fa vabbè va basta ciao così si saluta ciao Il bollo ma la bolla, il passerò la passerà, ma tutti quanti amano Mike Scioscia Tutti quanti amano Mike Scioscia